Non c'è pace per i figli del Presidente del Senato, Ignazio Larussa. Oltre alle pesanti accuse di Violen Quartas e tre sua le piombate su Leonardo Apache, ora tocca anche a Geronimo Larussa difendersi da un altro tipo di contestazione. Addirittura il furto. Il dito glielo punta contro non una persona qualsiasi, bensì l'artista e cantante Roberto Vecchioni che, durante il festival La Gaberiana a Firenze, intervistato dal giornalista Andrea Scanzi, ha rispolverato un vecchio aneddoto sul figlio della seconda carica dello Stato, risalente al 1997. È passato tanto tempo e la posso raccontare anche perché ormai è andata in prescrizione. Per la prima volta mia figlia volle fare una festicciola da sola in casa con quattro amiche. Voleva che andassimo fuori. Siamo andati a casa di mamma che era vicina. Dopo pochissimo che era iniziata la festa racconta vecchioni è cominciata ad arrivare gente. Ragazzi di 17, 18 e 19 anni. Ma anche molti minorenni. Sono entrati in casa. Mi hanno rubato di tutto. Tutti i portasigari che avevo. Hanno spaccato un bel po' di roba e sono andati addirittura a rubarmi le t-shirt e le mutande. Non ho capito perché le mie mutande. Un feticismo assoluto. Tra le persone presenti a quella festa anche Geronimo Larussa che risulterebbe. Dunque. Tra i. Ladri. Di casa Vecchioni. A queste accuse piovute ora, dopo 26 anni, la russa non ci sta e replica. Ho dato mandato al mio avvocato Vinicio Nardo. Affinché tuteli in ogni sede competente la mia onorabilità. Chissà se tra le due parti avvenga una conciliazione preliminare che eviti il dibattimento o si finisca direttamente in tribunale per una vicenda così lontana nel tempo. Magari ci sarà un chiarimento. Verrà sancita una pace e il buon Vecchioni saluterà a Geronimo non con un bellicoso. Alla carica. Ma con un più semplice. Sogna ragazzo. Sogna. Sogna ragazzo. 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 Grazie a tutti